Mario, come stai? Sì, lo confesso, aspettavo la tua telefonata. E cosa ti devo dire? Tra l'altro tu veramente eri un fedelissimo, sei un fedelissimo, neanche Team Telecom, un fedelissimo della SIP. Ma sì Mario, cambiare ogni tanto fa bene, fa bene Mario, cambiamo, cambiamo operatore. Sì, ho guardato quello che mi ha inviato, ho controllato la fattura, classica fattura, ma più che altro, più che discutere dell'aspetto economico dovremmo incontrarci di persona per vedere alcuni aspetti tecnici. No, non è niente di complicato Mario, ma figurati, semplicemente perché la telefonia fissa è un po' più complessa della telefonia mobile e bisogna fare alcune verifiche sul campo, che io sulla carta ci arrivo fino a un certo punto. Poi è il caso di vedersi di persona, mi fai fare un bel giro nei tuoi magazzini, un bel giro nella tua azienda e vediamo insieme dal punto di vista tecnico come sei messo in sostanza, se c'è da fare qualche cosa di extra, se c'è da prendere in considerazione determinate cose. Sì, oggi tu sei messo bene con la fibra, perché naturalmente senza entrare troppo nei tecnicismi e complicarti le cose, la fibra ottica, tu oggi sei coperto da fibra ottica, quella vera, perché la fibra arriva fino in casa tua, arriverà fino al router, fino agli apparati che installeremo, io do già per scontato che farai il contratto, gli apparati che installeremo all'interno della tua azienda. Diversamente molti tuoi colleghi, per esempio nell'altra zona, quella a fianco, la zona artigianale, ahimè sono coperti soltanto da fibra misto-rame. Nel tuo caso tu sei un po' più fortunato, sei messo meglio e questo gioca a nostro favore, perché la tua richiesta di passare al centralino virtuale potrà essere soddisfatta pienamente, perché è importante per chi utilizza quel tipo di soluzione tecnica avere dietro un centralino virtuale una, come la chiamiamo noi, una connettività di un certo tipo, perché su quel tubo lì, sull'autostrada di internet, girerà tutto, quindi le telefonate, tutti i tuoi interni parleranno attraverso quel protocollo, e anche i tuoi computer, naturalmente, tutto, e quindi è importante che ci sia, sottostante che ci sia un collegamento internet di un certo tipo, e tu sei messo bene, perché hai fibra ottica, fibra ottica quella vera, che arriva fino al tuo router. Lo so, lo so, naturalmente l'installatore e il tuo manutentore del centralino non sarà contento, non sarà felice, perché perderà un contratto di manutenzione e dovrà farsene una ragione, e tu però ci guadagnerai in efficienza e risparmierai anche un po' di soldini, non avrai più la problematica di eventuali guasti, di dover sostituire dei pezzi, dover pagare la manutenzione annuale di quel tuo centralino, che oggi, se non ricordo male, mi avevi detto che ha una decina d'anni. Ma per i telefoni non ti devi preoccupare, poi troviamo, ci sono tutte le opportunità e le possibilità, cioè dal telefono fisso al cordless, o come ha fatto qualche tuo collega che utilizza i cellulari come se fossero degli interni di rete fissa. Sì, certo, integrati nella rete, Mario, è il futuro, la trasformazione digitale. Naturalmente, poi certo, dal punto di vista economico, troveremo il modo di soddisfare ogni tua esigenza. Quindi l'ideale, adesso dopo aver visto sulla carta quello che tu hai attualmente, oggi sono le classiche, ISDN, col centralino fisico, tutta quella roba lì sparirà, lascerà il posto a questa soluzione VoIP di Vodafone e tu avrai un'interfaccia internet. Ma adesso non preoccuparti di questi aspetti tecnici. Ci diamo un appuntamento, ci vediamo di persona, vediamo insieme come sei messo anche dal punto di vista del cablaggio. Ah, beh, se sei cablato, tanto meglio. Se ci sono cose che dobbiamo considerare che non ho visto sulla carta, dopodiché ti formulerò l'offerta, un'offerta che non potrai rifiutare. Mario, questa telefonata ti allunga la vita, eh, migliore il tuo business. Va bene Mario, conto di passare da te settimana prossima. Sì, anche martedì va bene, va benissimo, in mattinata. Grazie Mario, saluti a casa Mario. Ciao Mario. Mario ha cambiato operatore, fatelo anche voi, cambiare conviene. Grazie a tutti.